Diggory 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 D D D D Bravissimo Diggory D D Esatto, devi 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 Devi, 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 devi Bravissimo Quattro di attaccato Fa Re Aspetta che Eliama sta portando i castelli Fa, re I I I I Direi che è perfetta come frase, sì more C C C Come coli Sì, esatto P Però com M C'è la M Com Bravissimo Fa la M Com E adesso Pt P P P P Deve fare i compiti Sì 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 D Do D E 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 dopo dopo si guarda bravo e dopo se no niente tv va bene dai scrivi così visto che ti piace digori devi fare i compiti se no dai se no se se non è la si è se e lo so lei è aperta io se metti lei e se no scrivi no no se no spengo se non spengo la tv ok ok scrive se va bene va bene se no spengo si aspetta spe e spe bravo lei ci manca spe n spe n go bravo guarda che casino è successo se no spengo che cosa spengono la tv scrivi la tv cosa è successo ne mancano due di tv quale 9 e 10 dove sono no digori devi fare come ah no sono mescolati se no spengo la tv 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 o televisione cosa vuoi ti v ho spengo la tv 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 v e qui? cosa fa qui digori? sta facendo i compiti digori tu sta facendo i compiti dai amore vai sta sta t t t t e a e la a? dov'è? bravissimo sta facendo facendo c c c c c c c esatto c bravissimo sta facendo sta facendo sta facendo sta facendo finisci la parola n do guarda cosa è successo che cosa? i compiti vai guarda cosa è successo alle tabelline rosse i compiti qua c'è quello scritto Derek sta facendo i compiti tagli la s cancelliamo la s sta facendo i compiti vai chiudi gli occhi mamma che devo guardare perfetto Derek compiti non vedere anche tu ti bravo ti non vedere ho detto non spire ti si amore la ti bravo la ti mi vuoi guardare solo Derek molto bene via via e adesso cosa succede qua? sta in giro sta in giro non devi guardare ho detto quindi Diggory va in bicicletta Diggory sta andando in bicicletta o Diggory va in bicicletta cosa vuoi scrivere? va in bicicletta Diggory va in bicicletta Diggory du vai in bicicletta Diggory 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 metti il casco per andare in bicicletta dai Diggory du non fai di cosa stare non è bello Diggory 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 Diggory